Terza media sezione C, alunno Martinelli Mario, presente, se desiderato in direzione. Buongiorno signor Presidente. Vieni, vieni avanti. C'è qui una lettera di protesta di una mamma di un tuo compagno di classe che parla di tua madre. La lettera di protesta, che ho passato a scrivania, per parla di mamma mia. Lecce della faccia di Massabella. La lettera di protesta, che ho passato a scrivania, per parla di mamma mia. La lettera di protesta, che ho passato a scrivania, per parla di mamma mia. Una lampa, una faccia e una signora, che tutte le sere sta formata là. E sì signora, è proprio mamma mia. Che sta signora, sta signora amante. La lettera di protesta, che ho passato a scrivania, per parla di mamma mia. La lettera di protesta, che ho passato a scrivania, per parla di mamma mia. La lettera di protesta, che ho passato a scrivania, per parla di mamma mia. La lettera di protesta, che ho passato a scrivania, per parla di mamma mia. La lettera di protesta, che ho passato a scrivania, per parla di mamma mia. La reggio del presidente. Lui signora, il presidente legislatore. Per parla di protesta, che ho passato a scrivania, per parla di mamma mia. Per parla di medicina, per parla di nomi di mamma mia. No lato da Rondona